La cittura della statuaria campana, l'archeologico di Napoli, ritorna ad essere un punto di riferimento mondiale delle collezioni di scultura e pittura classica. Si tratta di 250 monumenti che provengono dalle aree pubbliche di Pompei e di Erpolano e che fanno vedere il livello raggiunto in età post-augustea dalla Campania Felix. In particolare il recupero di 2.000 metri quadri espositivi e anche il recupero della tessitura architettonica del palazzo e quindi sarà possibile da parte della città e dei futuri visitatori incontrare un crescendo di arti, architettura, pittura, scultura spalmate dal mondo antico fino all'età neoclassica.